Gli ex aspiranti chef tornano trionfalmente in Masterclass per supportare i finalisti. Con Nicolas, Rita, Andrea Letizia e Nicky Bryan, la tifoseria di Carmine raccoglie da subito adesioni entusiastiche. Ma quest'anno la Masterclass ha ospitato tante donne di carattere. Dahlia, Giulia, Anna, Tina, che sono pronte a prendere posizione. Scendo in tifoseria per Tresi. Io tifo per la mia Tresi, io oggi sono qua per Tresi. Tresi. Girls power. Andrea. Mamma mia che eleganza. Tu per chi tifi? Cristian. Se utilizza il cuore, come gli ho sempre detto di fare, sarà un gradino sopra tutti. Mary, vieni avanti. Rivedere Mary è un'emozione unica. Tipo per Cristian perché ho fatto un salto mostruoso e sono fierissima di lui. Bruno. Supertifo per Carmine. You the man. No, you the man. You the man. Mime, viene avanti. Guardala. Vabbè. Mime è bellissima. Io tifo con mio figliolo Carmine. Se mi devo sposare, mi devo sposare con una come Mime. Pietro. Federico. Federico. Ma all'appello mancano ancora tre personaggi che hanno fatto la storia di questa edizione. la regina. Et voilà. Io vi bacio tutte e tre, non me ne frega niente. Come stai? Che bella che sei. Sei tutta tatuata, anche fa un giro. Ce li ho sempre avuti comunque, Chef. Ma sai, non ti abbiamo mai visto nuda, scusa. Cioè, voglio dire. Non è che adesso la vediamo nuda. Oh, è vestita. Se vuole, Chef, è un'acqua. No, no, no. Elena, per chi fa il tifo? Sarò con tre, sì. Ah, con tre, sì. Oh, ma tutte donne. Oh, tutte donne. Via. Tutti belli. Per chi fa il tifo? Il mio in bocca al lupo va a tutti e tre, perché abbiamo passato un po' di tempo insieme. Però il mio fratellino Carminiello. Oh, ma quanti fratelli hai? Tanti, Chef. Bane! Sì, Chef! Io. Bane!